Benvenuta nel mio pc, sei pronta per fare questo video? Sì! Oggi giocheremo a Minecraft, ok? Ok Non questo Minecraft, questo Minecraft Ma chi che? Andremo a giocare alle copie tarocche di Minecraft, sei pronta? Vai vai Una domanda a te, a te personalmente, ti è mai venuta in mente l'idea di cercare su internet Minecraft gratis o giochi gratis? Sì, su Play Store quando non mi potevo comprare Minecraft P E sono tipo le copiette tarocche di Minecraft Bene, faremo la stessa cosa però versione pc Andremo ad analizzare i giochi, abbiamo tipo una vasta collezione di giochi Facciamo Among Us Bene, allora scegli un gioco Block Craft 3D, mi ispira Block Craft 3D, Block Craft 3D è un gioco di costruzione stile Minecraft Inizia a giocare, accogli i tuoi blocchi e i materiali per costruire e costruisci il tuo mondo di Minecraft Allora, se giochi a Minecraft, non potrai non giocare a Block Craft E tu? Sì, e tu? Se ti piace Minecraft, amerai Block Craft 3D Bene, allora iniziamo Vediamo un po' come... Eh ma che cazzo la pubblicità però Che posso schippare però Ma che cosa? Ho schippato Le pubblicità Block Craft 3D Bene Come giocare Ok, wow New game Oddio la sensibilità ti prego Ma che cazzo Ma perché è tutto zoomato tipo? Guardate la, guardate l'inventario Oddio Posso costruire? Ma perché tipo zoom? Oddio ma c'ho la riccia, guarda Posso spaccare fino a lì, guarda Ho una patata Posso spaccare fino a lì? Vedere Ok no No, e vabbè la pubblicità Ma ci sono le palme Ma cosa sono queste fornaci? Perché c'è la bedrock? Che blocco è quello? È bedrock Questa è lava? Ma sto fruttuando Allora Ancora Questo gioco è una pena Facciamo qualcosa Allora Posso scavare la bedrock a pugni Wow Allora ok In fondo In fondo dove? Senti cadi Ok Oddio Ma che cazzo Oddio Ho raccolto la lava Ma è lava questa? Non siamo sicuri Fa vedere Ancora so Praticamente Non è lava Ma che cos'è? Ma cos'è? Sono sabbi mobili Sono sabbi mobili Che roba è? Infatti io voglio prendere una palma Oh sto fallando Guarda Posso fallare Oddio La sensibilità è la cosa più fastidiosa Non c'è una crafting Non c'è nulla La pubblicità di nuovo Ma che cazzo? Guarda 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 Ho visto un ammasso di litri fluttuanti Cos'è? Eccolo Che roba è? Ma che è? E' una nuvola E' una nuvola Esplora un po' il mondo Vedi se ci sono biomi Ma che biomi? C'è la pubblicità? Posso creare alberi raga Posso salvare il pianeta Faccio un god bridge Aspetta Faccio un god bridge Ma porca di quella Ma che sono ste cose? Sta la titi Questa interia dovrebbe essere lava Senti Posso anche collezionare la lava Wow Ok basta Mi sono rotto il c***o Oltre a block craft C'è anche craft night Tra un po' il c***o Inserisci un nickname Ok carpi vai Che skin Che è qua? Oddio Posso scegliere le skin Pollo A posto Clicca Ok Wow Iniziamo così allora Ma iniziamo con il suono Noi sono corto in acqua Non ci credo Ma c'è una pistola C'è una pistola Perché hai una pistola? È my craft night Siamo nel ghetto qua Non ci credo Oddio posso Posso tipo C'ho sei pietre qua Cos'è sta roba? Ma fast night Come faccio a piazza? Che roba è? Posso lanciare Questa è la roccia Posso lanciare roccia Ma che c***o? Oddio ma ci sono i blocchi di pietra La pistola aspetta Ci sono anche i blocchi di pietra qua No blocchi di sassi Redstone Immagina fare una vanilla normale No? Tipo così Diamanti Non me li ha presi Oh c'è qualcuno lì Aspetta Immagina fare una vanilla normale E poi Ti trovi nel ghetto Che sei nel Bronx qua Aspetta Manco c'è i suoni Sto gioco Oddio L'ho fatto fuori Ma c'è la classifica? Guardi in alto a destra Obiettivo arrivare primo Ma non ci sono i suoni Che brutto Aspetta Ma sono bot Sono bot Sì sono bot È vero Ma che c***o? 360 Dai devo arrivare primo Headshot Boom Oh sono terzo Sono terzo Vai arrivo primo Eccolo qua Vai 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 Oh oddio Anonymous 360 Altro che Call of Duty qua Fortnite No craft night No craft night Ok sono bot Oh ma è Dico Oddio Oddio fucile C'è qualcun altro Oh sono secondo Sono secondo Dai arrivo prima No quello non è spadermi Non è spadermi Non è Deadpool Vai 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 No sono ancora secondo Aspetta Devo spaccare qua Ma aspetta C'è una K40 Come faccio Come faccio Come faccio Sono morto Oddio non ci credo Oh mio Dio Sì si Di nuovo in basso Ci riprovo Tryhard stavolta Ok Oh posso cambiare fuggito Oddio sì Che c***o Ma cos'è questo? È un pompa Ma si spara i blocchi Come? Cosa? Ok scegliamo un altro gioco Vediamo Qual è che devo Oh ma c'è anche il 2 Angry Games Wow Play Basta Tutto così Diretto Mi piace Mi piace È partito bene Ma vaffan Ok Giochiamo C'è pure il Discord Di sto gioco Play Ah puoi scegli il mondo Cosa è successo? Ancora La pubblicità No ti prego basta Skip Ma che c***o? Non era la pubblicità Ma che Ma la c***o Oddio Ma c'è le shaders Ma c'è la canzone che ti c***a Capito Sto morendo Su le mani Dai al drop saltiamo Go Oddio c'è anche la versione 2 è vero Aspetta andiamola a vedere Building and crafting Sei un craft Ah senti una voglia di leggere Iniziamo a giocare Afro GX Ma vaffan Ma che c***o? Ancora Ancora Go Daddy Aspetta no Angry Games Ripartite come pre Ancora Ancora Che è cambiato Ok Ok Ancora Ancora La musica è altissima Go Ma io vorrei provare questo Quale? Cosa c***o c'entra con Minecraft? Non cadere Giustamente la pubblicità Perché se no non riescono a fare i soldi Sti c***o Livello 1 vai Ma non c'entra nulla con Minecraft Ok no via Ok Siamo su Minecraft ragazzi Vai play Non vedo l'ora di giocare Pubblicità aspetta Se manca la pubblicità vuol dire che sto gioco è fatto da nocci Ah ti pare io Infatti È bellissimo Sta processando Attenzione Minecraft Minecraft Crea il tuo mondo Perché qua c'è tipo È tipo termale no? Sembra Termico ecco Ok crea un nuovo mondo Ok lo faccio qua Oddio Suoni Suoni Esatto Qui i blocchi si spaccano In instant C'è l'inventario però What? Che è pezzato? Che c***o? Ma che c***o è? È disturbante Che brutto Oddio Allora è fatto Decisamente meglio Rispetto agli altri Oddio Le TNT Quindi se metto TNT E poi scelgo fuoco In teoria Si accende vero? Wow Sì Ok Sì Aspetta Ma non si accende Praticamente Qua abbiamo tutto Birchwood Vai Svantaggio bridge Let's go Riesco a piazzare Non posso Non posso Però posso fare i tele bridge Vediamo Oddio Lago quando piazzi i blocchi Poi Ma sto volando Ma puoi volare? Ma che c***o? Puoi dare a fuoco gli alberi? Qua sto bruciando tutto Ma non brucia tutto Allo stesso tempo Posso tipo appiccare il fuoco qua? Oddio ma le fiamme sono alte poi Nel primo gioco salvavamo il pianeta Piazzando alberi In questo li bruciamo Ma che sto facendo? Secondo lì Ma aspetta Fino a dove posso piazzare i blocchi? C'è il limite Guarda Carpy bridge vai allora Carpy bridge Mancano Ma non ho capito che sono sti robbi Cioè che c'entrano col gioco Non lo so Sono solo che Vanno a fuoco a volte Sono monster Sono mostri Sono mob Eh ma cosa fanno? Un c***o L'acqua Con che legge della fisica scusami Se la fisica funziona bene su sto gioco L'acqua dovrebbe spegnere tutto Ah Perché in vita reale giustamente l'acqua Vediamo se esco Oddio Posso dare fuoco all'acqua? Fa vedere Oddio non ci credo Non ci credo Posso dare fuoco all'acqua? Quindi in teoria se vado qua Manco spongebob ti prego Posso accendere incendi in acqua Bel gioco Bel gioco Molto 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 bello Totalmente senso E questo sarà il mio prossimo gioco Basta Quinto da minecraft E vengo a giocare qua Wintercraft Stupissici Nuovo mondo Gioca Mi so spaccato le ossa Ah c'è anche il rumore Oddio ma flui Ma che? Oddio È un po' in ritardo C'è uno schizzo guarda C'è uno schizzo Ma Se tu salti Niente Se tu cammini Schizzo Guarda l'animazione quando spacchi Oh ho fatto bene Sì ma non posso raccogliere nulla Sì ma non posso raccogliere nulla Oh ma ce l'ho inventa Aaaaaaah Basta Vabbè certo Sì 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 Certo Add to Chrome Sì sì lo aggiungo adesso Ok Oddio Ma c'è lo scaffold Su questo gioco C'è la scaffold Dai Godbridge Vediamo qua Se riesco a fare il Godbridge Vai avanti Esplora un po' i biomi Perché nessuno dice Che è esplorato i biomi Vai vai Vediamo un po' cosa c'è Perché c'è solo la neve Questo è il bioma della neve Attenzione È impossibile che c'è solo la neve No Mi sa proprio di sì Ma com'è possibile Qui c'è qua Oh What the f Ehm ok Ah ma sai perché c'è solo la neve Perché Perché si chiama Wintercraft Ah È molto bello come gioco eh Sì sì è molto bello Voglio vedere se a nego Se vado in acqua Cos'è sta qua È ghiaccio No è sabbia Però è extra Sì Posso tipo Non c'è profondità in acqua C'è la sabbia qui Questa sabbia Ok no basta Cambiamo gioco Sono tra l'altro Oddio What? Ma è terraria Ma è terraria È pericoloso Non puoi saltare Non puoi saltare È pericoloso Ah non puoi prendermi Ehm 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 OHHHH